per venire a darci qualche risposta. Torno a ripetere, noi sollecitiamo l'allargamento della via San Savino perché come sapete la via Mulino verrà chiusa per concessione ultima verrà chiusa quando verrà aperto il passaggio ciclabile sul cavalcavia di San Felice. Detto questo, la via Mulino verrà chiusa e voi sapete benissimo meglio di me perché la maggior parte siete residenti, è l'unica via percorribile nell'eventualità ci fosse delle piogge abbastanza consistenti. Noi abbiamo chiesto alla Giunta di lasciare aperto questo passaggio livello perché appunto era l'unica via di fuga, l'unica via di collegamento persa con la città capoluogo, Cremona. Abbiamo chiesto a più voci alla Giunta precedente che non aveva senso chiudere questo passaggio livello anche perché le attività commerciali, le poche attività commerciali della zona ne risentiranno parecchio secondo me. Abbiamo voluto portare i trattori perché con un cartello non indifferente via San Savino mi sta stretta. Vedete le dimensioni del mezzo e vedete le dimensioni della strada. Una strada che purtroppo già è il teatro di un triste incidente. e vedete le dimensioni della strada. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.